Mancano pochi giorni al pellegrinaggio in 24 ore a Roma con udienza dal Papa che il Centro di Pastorale Ragazzi propone come ogni anno i Cresimati o Cresimandi della Diocesi. Gli ultimi dettagli organizzativi sono stati predisposti e martedì sera è prevista la partenza per i ragazzi che saranno accompagnati dai loro catechisti, dai sacerdoti e dai genitori. Questa iniziativa è nata a livello vicariale a Villa Franca qualche anno fa ed è stata trovata molto bella dalle altre parrocchie e dagli altri vicariati che si è deciso di farlo a livello diocesano. Nasce così per far fare ai ragazzi della Cresima un'esperienza di fede e di chiesa forte a Roma nella città di Papa Francesco e nella città simbolo della nostra fede. Mancano poche ore a questo momento, ovviamente vi state preparando, c'è già stato anche un incontro nel corso del quale avete un po' distribuito quello che sarà un po' il materiale che caratterizzerà la presenza dei veronesi a Roma. Esatto, il materiale per la proposta di fede quindi per il cammino delle varie testimonianze e la maglietta che ci contraddistinguerà. I ragazzi avranno tutti una maglietta gialla e gli animatori e i ragazzi dell'equip del CPR una maglietta blu. I colori non sono scelti a caso, sono i colori della nostra città e anche della nostra diocesi. In più un opuscoletto dove vengono indicati quattro incontri che cambiano la vita, quali sono? Esatto, l'idea è quella di portare a Roma i ragazzi della Cresima per ascoltare una cosa che a casa sentono poco, cioè la bellezza di continuare il proprio cammino di fede. A casa, soprattutto tra i coetanei, gira tanto il ritornello che credere non serve a niente, che credere è una cosa banale, che non ti serve a niente nella vita. Noi li portiamo a Roma ad incontrare dei testimoni belli, di gioia, tra cui Papa Francesco, e dopo saranno loro che decideranno chi ascoltare e da chi farsi indirizzare nella vita. In quanti sarete? A Roma saremo circa 850 persone tra animatori e cresimanti di tutta la diocesi di Verona. La partenza quando è a che ore? I ragazzi partiranno martedì alle 10 della sera e viaggeranno tutta la notte per raggiungerci a Roma alle prime ore dell'alba. Il programma di questa giornata romana? I ragazzi riceveranno diverse testimonianze, inizialmente quella di una famiglia di Roma, poi ci sposteremo e sentiremo la testimonianza di Papa Francesco e avremo la possibilità di avere la messa nella Basilica dal Cardinale Comastri. Grazie. Grazie.